Questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Locri, l'ex sindaco di Camini, Anna Micelotta, unitamente ad altre otto persone tra amministratore e tecnici del Comune, dovranno difendersi dall'accusa ipotizzata nei loro confronti, dal sostituto procuratore della Repubblica Ezio Arcadi, di tentata truffa nei confronti della Regione Calabria, nonché di falso, in atto pubblico e abuso, in atti d'ufficio. Secondo l'ipotesi accusatori, infatti, la tentata truffa che sarebbe stata organizzata a vario titolo e con diverse responsabilità dalle nuove persone incriminate, consisteva nell'aver richiesto un finanziamento di 250 mila euro per interventi di edilizia su un edificio realizzato nel Comune di Camini e fatto passare come un edificio di proprietà del Comune, mentre invece era di proprietà dell'Istituto Diocesano del Comune Catanzare e di Squillacere. L'indagine, condotta dal sostituto Arcadi e conclusa a marzo del 2016, veniva chiusa dal gruppo di Locri, Maria Teresa Gerace, con l'udienza preliminare che si è svolta il 12 gennaio del 2017. In quell'udienza, il gruppo di Locri disponeva il rinvio a giudizio dell'ecchesi sindaco di Camini e di altre otto imputati, soltanto per alcuni, dei fatti contestati, emettendo sentenza di non luogo a procedere per gran parte degli addebiti mossi, compreso quello di falso. Il motivo è da ricercarsi nella circostanza che il PM Arcadi il 22 febbraio 2017 proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento degli imputati. Il ricorso del PM è stato accolto e di conseguenza l'ecchesi sindaco di Camini e gli altri otto imputati sono stati richiamati in tribunale per essere giudicati dal giudice per i reati dei quali nell'udienza del 12 gennaio 2017 erano stati prosciolti dal gruppo Gerace. La nuova udienza fissata per oggi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri, con molta verosimiglianza nel corso dell'udienza di questa mattina, dove davanti al Tribunale collegiale si sta già celebrando il dibattimento che riguarda gli addebiti riconosciuti nei confronti dei nuovi imputati, il Presidente del Tribunale collegiale, giudice a corso, potrà unificare i due tronconi.